è una cosa che mi ha chiamato a ieri devi te appigliare i collo, non penso no, vabbè, cazzo, non quale ne è uno ma pure anche quello che sgomma, convinto mamma no, qua, ma ci ha più già e che si era trapposizione posteriore ok, ci sarai io base, no, no, fatti già stasera, fatti una passata sul forum eh, stasera penso che magari tu non mi ha appena tornare eh no, io purtroppo non tengo questa buona abitudine ok